E' durata otto giorni la fuga del ragazzo egiziano classe 2000 evaso dal carcere di Pescara lo scorso 11 luglio. Il ventenne era stato arrestato a Roma per rapina e trasferito a San Donato il 24 giugno in attesa di giudizio. L'egiziano però non si è rassegnato alla privazione della libertà e ha deciso di evadere probabilmente senza alcuna organizzazione. Durante l'ora d'aria ha prima scavalcato il muro del passeggio di circa 3 metri e ha poi superato anche il muro di Cinta. Dopo ha preso un treno fino a Cerignola dove la polizia lo ha arrestato ieri sera in un appartamento ponendo fine alla sua latitanza con lui due uomini denunciati per favoreggiamento. Sono servite sia le testimonianze di cittadini che lo hanno visto nel treno, sono servite pregresse e attività investigative in atti per cui abbiamo ricostruito anche le sue abitudini, anche dei numeri di telefono in relazione a ciò che era già negli atti di polizia presso la questura di Roma e poi c'è stata un'attività tecnica di intercettazione particolarmente proficua che ha consentito la cattura. Un'operazione fulminia di una settimana che ha ripristinato l'ordine giuridico che era stato violato in maniera plateale. Non è la prima volta che qualcuno riesce a fuggire da San Donato. Celebre l'evasione nel 2005 in cui i tre detenuti sparirono nel nulla. Stessa cosa ad agosto dell'anno scorso quando fuggì un 47enne. In tutti i casi i detenuti furono poi catturati ma questi episodi dimostrano che evadere dal caccere di Pescara è possibile.